L'ultimo video del 2023 sul canale sportivo e come la tradizione oramai si parla di salto con gli sci, si parla di tournée dei quattro trampolini, una delle manifestazioni più iconiche di questa disciplina che assegna non solo punti importanti per la Coppa del Mondo ma anche il progetto trofeo dell'Aquila d'Oro che dà prestigio evidentemente a chi la vince quasi fosse un mondiale o un'olimpiade. Veniamo dalla tournée scorsa dove ha vinto il concordia cimantei Ryoyu Kobayashi, veniamo invece da un presente di Coppa del Mondo dove l'Austria di fatto e la Germania la spiegano a chiunque altro perché delle otto gare di Coppa del Mondo cinque la vinte Stefan Kraft, l'Austria spesso ha fatto doppietta sul podio che sia 1-2 che sia 1-3 e la Germania come squadra è di fatto il miglior team nonché appunto seconda forza in campo per numero di vittorie. Abbiamo visto in questo inizio di stagione quattro vittorie consecutive di Stefan Kraft tra Cusamo e Lillehammer, la Germania è tornata padrona in casa a Kligenthal con una doppietta incredibile di Kurt Geiger, Pius Paschke fa ancora vincere la Germania in quel di Engelberg, peraltro vittoria di Paschke clamorosa perché l'atleta tedesco è diventato il più vecchio atleta a vincere la prima gara in Coppa del Mondo e Kraft invece ha ribadito il concetto di essere il più forte di tutti l'uomo da battere nella seconda gara di Engelberg in Svizzera con una rimonta clamorosa dalla sesta posizione nella seconda run per appunto arrivare alla torne dei quattro trapolini da leader della Coppa del Mondo. Queste quattro tappe molto ravvicinate della torne appunto si sviluppano tra Austria e Germania, due a Oberstdorf il 29 e il primo gennaio e due in Austria. Il 3 gennaio si salterà a Innsbruck, il 6 gennaio all'Epefania si chiude la tradizione come appunto a Bieshoff-Schofen. Nel momento in cui sto registrando in realtà sta andando in scena la qualificazione alla gara di Oberstdorf, ma andiamo poi evidentemente a spiegare il format e il concetto di turnere di quadro trapolini. Prima però andiamo ad analizzare come al solito i quattro impianti che ospiteranno queste quattro tappe di Coppa del Mondo e di questa manifestazione che appunto assegnerà l'Aquila d'Oro il preciso trofeo. Si parte da Oberstdorf, siamo allo Schattenberg-Schanze, uno dei templi del salto con gli sci e non solo, un trampolino che ha ospitato campionati mondiali, ospita sempre la tappe inaugurale della tournée e lo Schattenberg-Schanze è uno dei trampolini che evidentemente fa già la cartina di tornasole per tutta la tournée perché storicamente il vincitore della manifestazione salta fuori sempre dai primi quattro classificati di questo trampolino. Un trampolino che predilige sia una tecnica di salto che appunto va a premiare l'aerodinamica quindi la capacità di volare anche con il volo radente e la relativa portanza sia quei saltatori tipo i tedeschi che hanno una qualità di spinta molto molto elevata. Ovviamente lo Schattenberg-Schanze faccia selezione appunto per i concetti di qui sopra da qui in poi parte evidentemente la rincorsa all'Aquila d'Oro e l'Aquila d'Oro passa anche dagli altri trampolini perché le cartina di tornasole sono due una è la tappa di Oberstdorf, l'altra è la tappa di Innsbruck nel mezzo c'è la tappa di Garmisch-Panterkirken che storicamente è la gara di Capodanno il primo gennaio si salta sempre nella località tedesca che ospita anche gare di Coppa del Mondo di altre discipline nel salto quelli sci si salta soltanto in questa manifestazione un trampolino veramente imponente un trampolino che predilige evidentemente i volatori vedi anche grandi atleti norvegisi del passato vedi Kobayashi che ha vinto la scorsa edizione dell'Aquila d'Oro è un trampolino che comunque può puntellare evidentemente i distacchi in questa tournée se c'è un vantaggio sufficientemente importante si può poi arrivare alla tappa veramente decisiva perché spesso il turning point definitivo della tournée è il Bergheiser Schanz il trampolino di Innsbruck un trampolino che differisce totalmente di dimensioni rispetto ai due elencati in precedenza perché parliamo di un trampolino che ha un punto K fissato a 120 metri e un punto HS fissato a 128 quindi le misure non sono eclatanti fa molta differenza lo stile perché per chi non fosse avvezzo a disciplinare il salto con gli sci gli atleti devono appunto lanciarsi dal trampolino per raggiungere la misura più lunga possibile aggiungendo però anche lo stile a questa compagnia della misura di conseguenza ad ogni gara si ottiene un punteggio che è la somma dei punti ottenuti con la misura più i punti appunto dovuti alle valutazioni dei giudici che possono andare da un minimo di 0 a un massimo di 20 punti tutto questo fa appunto in modo che ci siano una serie dove si qualificano gli atleti alla seconda run e poi nella seconda manche si decide evidentemente chi vince la tappa di Coppa del Mondo in una gara di Coppa del Mondo normale si qualificano i primi 50 e saltano di fatto in ordine di classifica invertito di Coppa del Mondo nella tournée non funziona così ma ne parliamo quando parleremo appunto dei favoriti tecnici di questa manifestazione il Bergisel sarà ancora una volta la cartina di Tornasole per capire chi può evidentemente duellare per vincere la tournée oppure per decretare di fatto il vincitore vero dell'Aquila d'Oro anche perché poi nel trampolino successivo che è Bischof Schofen di fatto i giochi sono praticamente fatti a meno di casi in cui abbiamo una tournée con dei duelli tra due o più atleti spesso a Bischof Schofen si arriva con due atleti che lottano per quanto riguarda l'Aquila d'Oro Bischof Schofen è un altro trampolino di imponenti dimensioni molto particolare perché il trampolino di fatto non è diretto sulla collina appunto di atterraggio ma appunto ha anche una parte orizzontale che evidentemente può dare qualche difficoltà ai saltatori comunque Bischof Schofen è sempre spesso una passerella nella conclusione di questa manifestazione e abbiamo visto anche delle prime volte molto importanti in questa località tutto questo per dire che Stefan Kraft che è di Bischof Schofen di fatto è il favorito per questa tournée una tournée che si svolge nel seguente modo abbiamo detto che ad ogni gara si giocano appunto il posto 50 atleti c'è una qualificazione che viene appunto disputata da tutti gli atleti iscritti per la prima tappa della tournée sono 58 dopodiché gli atleti vengono in questo caso accoppiati e non fatti saltare nell'ordine di classifica invertito della Coppa del Mondo come appunto succede nelle altre tappe che non siano la tournée l'accoppiamento viene fatto nel criterio perché la coppia che vada a saltare formi come somma dei pettorali 51 tradotto il primo classificato della qualificazione affronterà l'ultimo della qualificazione il secondo il 49esimo il terzo il 48esimo e così via fino ad arrivare allo scontro tra 25esimo e 26esimo che sarà quello che aprirà la gara la prima run si svolgerà in questo modo con degli scontri diretti che appunto andranno a premiare i 25 migliori saltatori più i 5 punteggi ripescati e poi la seconda run è canonica appunto per 30 atleti per vedere appunto che si aggiudicherà la tappa iniziale della tournée e accumulerà punti importanti anche per la Coppa del Mondo questi sono tecnicamente i favoriti vedendo anche l'andamento della Coppa del Mondo fino ad Engelberg come abbiamo visto all'inizio di questo video l'articolo è di OASport ed è scritto da Francesco Paone che insieme a Massimiliano Ambesi commenterà le 4 gare della tournée di 4 Napolini su Eurosport e Discovery Plus e indubbiamente il favorito tecnico è Stefan Kraft 5 vittorie nelle prime 8 gare di Coppa del Mondo è nettamente in questo momento l'atleta più in palla che con la sua grande capacità di volo e la grande portanza aerodinamica riesce a mettere quel quid in più dove magari gli altri fanno evidentemente fatica o hanno meno qualità dal punto di vista aerodinamico chi vince 5 gare delle prime 8 non può che essere il favorito tecnico per vincere questa tournée peraltro l'Austria non la vince da tempo immemore perché nelle ultime edizioni abbiamo visto trionfi di zoveni polacchi norvegesi e giapponesi l'Austria l'Austria quindi deve tornare a vincere la pila d'oro da un certo punto di vista non dico per dovere però insomma vedere una superpotenza di questo tipo che ha digiuno da 9 anni fa veramente spavento l'altra superpotenza che non vince dai tempi di Sven-Annaval parliamo del 2002 è la Germania e i controfavoriti qui indicati da Francesco Paone con 4 stelline su 5 sono evidentemente appunto tedeschi con i controfavoriti Karl Geiger e Andreas Wellinger Andreas Wellinger è l'atleta più quadrato tecnicamente dei due ma Karl Geiger con delle grandi prestazioni a Kligenthal è riuscito a fare una doppietta che era praticamente impronosticata quindi attenzione perché se Kraft dovesse steccare evidentemente qualche salto qui e lì potrebbe saltar fuori un tedesco vincitore e può essere un pronostico interessante perché di fatto la squadra tedesca è quella messa meglio come collettivo che ha portato più atleti sul podio in posizioni anche importanti con tre vincitori o meglio due vincitori su tre vittorie generali di Coppa del Mondo tanti podi insomma i tedeschi sono partiti bene Kraft è più forte di tutti anche dei tedeschi però è un duello che si presta a essere molto molto interessante a tre stelline troviamo Jan Oerl l'atletto austriaco che ha fatto qualche podio a Toyo Kobayashi che si è un attimo preso un po' di tempo è partito con Kahn e con Cordia Cimanta è arrivato ad avere dei risultati di rilievo nelle ultime gare di Coppa del Mondo a Engelberg e quindi attenzione perché Kobayashi può essere una variabile impazzita così come il miglior sloveno che è Ansel Anijek e uno dei migliori norvegesi che è Marius Lindvik uno dei pochi norvegesi in palla Norvegia che è indietro dal punto di vista tecnico dei materiali e infatti nelle due stelline troviamo Alvo Regner Granol che sarebbe il vincitore della sfera di cristallo in carica ma che anche lui è partito piano non ha neanche fatto né una vittoria né un podio in questa stagione ma appunto in Tourne abbiamo visto che possono esserci anche dei pronostici clamorosamente ribaltati diamo due stelle anche a Pius Pasch che è stato appunto l'atleta più anziana di aver vinto la prima gara in Coppa del Mondo parliamo di gara 1 di Engelberg gli altri sono a una stella sono nazioni che possono fare buone figure nazioni che vengono per partecipare e basta comunque è una manifestazione che vede anche la nazionale italiana la nazionale italiana ovviamente è nel novevo di una stella ma a differenza delle altre edizioni quest'anno abbiamo delle chance e le chance sono di zona punti quantomeno con due atleti tutti e quattro gli atleti italiani che quando si andremo a parlare hanno chance di passare il taglio della qualificazione e ci sono le giuste condizioni chissà anche a tentare alla zona punti cosa è capitata per tre dei quattro atleti che andremo a parlare in questo momento in ordine di start list di qualificazioni il primo che salterà a Oberstdorf è Francesco Cekon figlio di Roberto il più grande atleta italiano del salto con gli sci di sempre Francesco Cekon è un classe 2001 alla prima vera stagione in Coppa del Mondo quest'anno che non abbiamo visto in realtà a Engelberg ha corso a Kligenthal arrivando 46 ma Cekon è un atleta che predilige la spinta la qualità aerodinamica e con una gara di vento di coda per tutti può avere delle chance è un atleta giovane che si sta facendo in generale la squadra italiana è una squadra che può puntare a fare bene e per fare bene si intende passare tutte le qualificazioni cosa che evidentemente è nelle corde della nostra nazionale e con gli atleti di punta arrivare evidentemente nei migliori 30 e chissà anche qualcosa di più per Cekon i punti non sono ancora arrivati ma appunto il ragazzo si sta facendo e secondo me arriverà già in questa stagione e chissà che con il sistema del knockout system in tournée non possono arrivare i punti fondamentali anche per Cekon la grande sorpresa è Andrea Kampreger il volto nuovo della squadra italiana che ha esordito letteralmente quest'anno in Coppa del Mondo come Cekon Kampreger è un classe 2001 e pronti via accusa ma ha già fatto punti in Coppa del Mondo è un atleta che predilige molto la portanza in fase di volo piuttosto che la spinta è un atleta che però in alcune condizioni vedi per esempio vento frontale è di una dimensione con vento di coda in questo momento il sistema di salto non lo premia però appunto è un ragazzo giovanissimo al semi esordio assoluto quindi da lui ci aspettiamo che passi la qualificazione che se si becca evidentemente le condizioni giuste possa arrivare anche ai punti e chissà che magari Garmisch o Bischof Schoff non possono essere dei trampolini adatti al sistema di salto di Andrea gli atleti di punti invece sono due e sono oramai sulla crescita dell'onda da un pochino di tempo abbiamo il migliore Alex Insam di sempre che comunque arriva da una grande protezione a Engelberg che è arrivato nei primi 25 Insam ha ritrovato quella tecnica che aveva un pochino smarrito negli anni precedenti e quindi è un'atleta che può arrivare non solo sopra il ritaglio della qualificazione con costanza ma anche arrivare a punti con una certa costanza di fatto la nazionale italiana ha già piazzato tre atleti a punti nelle prime otto gare di Coppa del Monde da tempo in Membre non si vedeva una solità di squadra così elevata per la nostra nazionale Insam è il numero due di fatto del movimento azzurro che può puntare ai punti il top è ovviamente Giovanni Bresadola anche lui classe 2001 così come Cechone Camperger Insam invece è un classe 2000 scusatemi 1997 quindi anche lui decisamente giovane Bresadola ha fatto una grande prestazione a Engelberg gara 1 arrivando nei primi 20 si è replicato in gara 2 a Engelberg arrivando 27 insomma praticamente la metà delle gare Giovanni Bresadola è un atleta da zona punti e lo può essere anche in questa tournée Bresadola è un altro atleta che predilige la qualità aerodinamica in volo piuttosto che la spinta insomma la nazionale italiana deve puntare a superare il taglio e nei punti entrarci con condizioni di vento di favore con sfruttamento della capacità del volo aerodinamico l'unico atleta che può provare a emergere in fase di spinta è Cechone ma che comunque anche lui è al semisorto assoluto e il giovane si farà insomma la nazionale italiana è molto solida e chissà che non possa arrivare il sogno che ha elencato anche Francesco Paone nell'articolo di OASport per arrivare a pieni salti all'intera tournée che vuol dire Garmisch-Partenkirchen Innsbruck e Bischof-Schofen insomma la nazionale italiana è solida e ci farà sicuramente divertire non vedevamo una nazionale così competitiva del Stato Eccolo da tempo veramente in memoria ed è veramente bello commentarla e sperare di portare risultati buoni in questa tournée dove appunto il favorito ricordiamo ancora una volta è Stefan Kraft 5 vittorie nelle prime 8 gare di Coppa del Mondo contro favoriti i tedeschi Geiger e Wellinger su tutti per il resto sarà una grande tournée che darà sempre spettacolo tra fine dicembre e inizio gennaio quindi il primo video di analisi sportiva dell'anno nuovo sarà il 6 di gennaio o al massimo il 7 per parlare dell'assenzione della 72esima Aquila d'Oro per la tournée dei quattro trampolini sarà evidentemente a capito di Stefan Kraft che deve evidentemente riportare il trofeo in Austria trofeeranno i tedeschi dopo 20 anni di digiuno ci sarà qualche outsider lo scopriremo evidentemente in queste quattro appassionanti gare il saluto da parte di Matthew Thorgaard buon 2024 e ci vediamo al prossimo video ciao